Ciao a tutti! Allora, nei video precedenti abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere i modi per far perdere punti a Matrix, quindi cambiando noi stessi, cercando di voltare le spalle a questo sistema anziché combatterlo con la stessa violenza che il sistema stesso utilizza contro di noi. Oggi invece vorrei cominciare ad analizzare l'uomo e il mio quesito oggi è perché molti sono così profondamente incoerenti e come mai non se ne rendono conto? Volevo condividere una riflessione che è contenuta nel libro di Ike, Libricino, per un libricino che vi apre il mondo questo, Sei libero, perché non te ne accorgi? L'incoerenza delle persone ragazzi. Esempio, Gesù aveva i capelli lunghi. Questo lo mettiamo tra virgolette perché non sappiamo realmente se Gesù aveva oppure no i capelli lunghi, però, e poi ditemi se non è vero, Gesù aveva i capelli lunghi. In realtà noi non sappiamo come portasse i capelli l'uomo chiamato Gesù, ma l'esempio capita a Fagiolo. Se viene dato per certo che questa figura portasse i capelli lunghi, allora perché mai alcuni vanno in chiesa ad adorare pubblicamente quest'uomo e poi quando vedono dei giovani con i capelli lunghi dicono Guarda quegli sfaccendati capelloni, chissà perché i genitori permettono loro di andare in giro conciati così. No. Ora voglio sapere da voi. Non è vero? Gesù aveva i capelli lunghi. Vanno in chiesa, adorano, pregano Gesù, dicono di amare Gesù, però poi quando quelle stesse persone vedono per la strada un ragazzino che porta i capelli lunghi il ragazzino automaticamente è sporco, sfaccendato, capellone perché i genitori li permettono di andare in giro conciati così. Va bene. Questa reazione non dipende dal fatto che avere i capelli lunghi sia giusto o sbagliato. Anzi, che importanza volete che abbia? A chi dovrebbe interessare la faccenda? No. Il motivo per cui i capelli lunghi sono ritenuti da molti inaccettabili sta nei condizionamenti ai quali i costoro hanno permesso di prendere il sopravvento. Perché se il sistema dice che la base è avere il corpo in quel modo, il capello in quel modo, gli occhi in quel modo, le labbra in quel modo, tutti ad omologarsi, tutti a rifarsi le labbra, tutti a rifarsi gli zigomi, tutti a colorarsi i capelli, tutti a fare questo, a fare quell'altro, perché è il sistema che lo dice. E poi non fate la parte delle pecorelle del sistema? Vero, davvero? Ci dobbiamo credere? Bene. Comunque, quando queste persone sono nate, infatti, hanno ereditato queste persone che comunque seguono Gesù, amano Gesù, però poi vanno a denigrare un ragazzino perché ama portare i capelli lunghi. Queste persone, ragazzi, sono nate e quando sono nate hanno ereditato dei valori che a loro volta erano stati tramandati ai loro genitori dalle generazioni precedenti. Nel corso della loro vita, poi, hanno continuato a credere che i capelli corti vanno bene e quelli lunghi no. Tuttavia, se al momento della nascita i capelli lunghi fossero stati considerati la norma nella nostra società, la gente adesso magari camminerebbe per strada dicendo guarda quelli sfaccendati coi capelli corti, chissà perché i genitori permettono loro di andare in giro conciati così. È vero o non è vero? È vero che accade questo nella società? Appena il sistema ci mette la pulce nell'orecchio, tutti, ah sì sì, io voglio questo, io voglio quello. Appena, questo adesso lo fanno le classiche o anche gli influencer, non sono semplicemente donne, no? Che vi dicono, ah per essere in questo modo fate questo, tutti a fare quello. Per avere il viso così comprate questo, tutti a comprare quello. Mamma mia, a me a volte veramente mi viene da ridere, da ridere. Ma chi cavolo l'ha deciso che la norma è portare i capelli corti? Ma uno può portare pure i capelli squadrati, ma che ve frega a voi? Allora, fin quando ce li ha Gesù i capelli lunghi, va bene? Poi Gesù che comunque è stato un uomo, che ha insegnato il rispetto, eccetera, eccetera. Quindi fino a quando state in chiesa, in quelle quattro mura, Gesù ha i capelli lunghi, va bene. Appena uscite dalla chiesa, come le commarette, ah che schifo, quello c'ha i capelli lunghi. Ma come state? Non è forse così la società in cui viviamo? Oppure quando alcune persone mi scrivono offese, però poi aggiungono alle offese, di cui a me non me ne frega niente, a me dispiace per voi perché siete un'offesa a voi stessi, e poi quando aggiungono alle offese che mi fanno, aggiungono perché Gesù è il nostro salvatore. Ah, mazza! Parlate di Gesù, vi mettete in bocca la parola di Gesù che non dovreste proprio avere, anzi dovreste sciacquarvela quella bocca, parlate di Gesù e poi venite ad offendere le persone. Ma in quale chiesa andate ad ascoltare l'insegnamento di Gesù? In quale chiesa andate? In una chiesa di stolti andate ad ascoltare l'insegnamento di Gesù? Perché se Gesù vi pone un insegnamento, e voi credete a quell'insegnamento, con che faccia andate ad insultare gli altri? Gesù non l'avrebbe mai fatto. Eh, mamma mia che fedeli! Mamma, proprio i migliori, i migliori! Questa è la società, questa è l'umanità. Non facciamo di tutta l'erbo un fascio, ma è così, è così. E questo è l'esempio lampante. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa incoerenza quasi insanabile, perché più le lo fai capire, più non capiscono. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, vi mando un bacione, un abbraccio, vi voglio bene, e noi ci vediamo, alla prossima!